Ciao, oggi siamo con uno psichiatra, un giovane psichiatra che si chiama Davide Bianchi, psichiatra ligure, che ci racconta un po' chi è la sua esperienza e un po' anche il suo rapporto, diciamo, con il social network e con la presenza online. Allora, ciao a tutti, sì, sono Bianchi Davide, sono un neopsichiatra specializzato da pochissimo e da sempre appassionato di nuove tecnologie, a partire dall'Amiga, dal Commodore 64. Che bei ricordi che mi sblocchi. Che bei suoni, tra l'altro. Sì, sono molto appassionato di, si chiama Chiptune, ma è tutto un altro discorso. È tutto un altro discorso che approfondiremo. Quindi diciamo che l'approccio al nuovo, al vedere come funziona un determinato processo per raggiungere il risultato è sempre stato un po' nelle mie corde. E collegandoci direttamente al tema un po' della medicina, visto che siamo entrambi medici, è che vedo poca questa mentalità nei colleghi, purtroppo. Siamo rimasti un pochino indietro, siamo quasi in generale tecnofobici, c'è molta diffidenza nella nuova tecnologia, come se il lato biologico si dovesse per forza scindere dal lato delle nuove tecnologie. E questo è un problema, in quanto ormai la tecnologia, più che attorno a noi, visto gli ultimi sviluppi, basti pensare a Neuralink di Elon Musk, tra pochi mesi la tecnologia sarà dentro di noi. Per chi non fosse aggiornatissimo, Elon Musk, arcinoto, SpaceX, Tesla, sta ottimizzando un impianto neuronale, da impiantare nel mastoide, che principalmente potrebbe ristabilire le connessioni spinali nelle persone che hanno avuto dei gravi traumi, ma in studi sui primati si sta già cercando di controllare un puntatore, un mouse a distanza, controllare dispositivi digitali, quindi ormai la tecnologia è completamente dentro di noi, molto più di quanto ce ne si possa accorgere. Verissimo, un argomento estremamente affascinante, ma ritorniamo un pochino indietro. Noi nel nostro progetto, nel nostro concept, diciamo, tra virgolette di Medinfluencer, puntiamo molto proprio sull'innovazione e sull'utilizzo, sull'applicazione di quello che ci offre la tecnologia per venire incontro alle nostre necessità, ma soprattutto alle necessità di un eventuale pubblico, di una community. Noi puntiamo tanto sul discorso, sull'importanza di creare una community, perché tanti medici non apprezzano questo discorso, anzi sembra quasi che non c'entri niente col lavoro, sembra una perdita di tempo. Forse non è solo dietrologia, c'è anche qualcos'altro, cosa dici? Ma diciamo che purtroppo come categoria siamo diventati un po' diffidenti tra di noi. Eh, purtroppo è vero. Senza poi un diretto tornaconto, perché in altre professioni dove c'è molta più competizione, immagino ad esempio il campo dell'ingegneria, dove ormai sono pochi e arrivare a livello alto non è così facile, o il campo della giurisprudenza, sappiamo benissimo. Anche gli stessi psicologi con cui spesso lavoriamo. Esatto, però riescono ad essere più corporativi. Nello specifico hai citato gli psicologi che riescono anche a essere innanzitutto dei comunicatori migliori e di conseguenza a spendere questa loro skills anche a livello di social network, dove riescono a imporsi, sono nati recentemente dei grossi portali di aggregazione e di ricerca dello specialista psicologo più adatto al determinato disturbo e i portali che sono nati poi non sono solo un mero esercizio di stile, ma danno un servizio molto utile al cittadino, alla persona, al professionista che abbia bisogno di interfacciarsi direttamente con lo psicologo. Noi medici dobbiamo ancora farci un po' le ossa da questo punto di vista. È vero, purtroppo lo diciamo spesso anche parlando tra di noi che siamo una categoria che non è molto unita e purtroppo anche a livello diciamo tra virgolette istituzionale siamo un po' penalizzati da questo rispetto ad altre categorie che riescono magari anche in una trattativa a livello istituzionale magari a ottenere dei risultati. Noi riusciamo purtroppo spesso a ottenere poco anche perché siamo molto disuniti. Ma cosa c'entra tutto questo alla fine con il discorso di creare un profilo social, andare sui social e creare una propria immagine? Secondo me c'è tanto da dire su questo perché tanti di questi un po' diffidenti gli uni con gli altri non vogliono esporsi, non vogliono sapere niente di tutto questo, ma perché invece sarebbe molto utile? Ma è fondamentale in questo momento in quanto la figura del medico, soprattutto dopo il covid, diciamo che ha subito alcune grosse spallate. Non siamo più giustamente il medico della peste che arriva e impone il suo volere sulle persone, ha potere di vita di morte, non siamo più i medici degli anni 50 che venivano considerati comunque un riferimento sociale, familiare, riconosciuti. Il medico era una delle persone più importanti della cittadina e poteva cambiare un po' le sorti di una persona. Nel tempo la componente scientifica è entrata sempre di più, quindi ovviamente i rapporti sono diventati più tecnici, ma la figura del medico ora viene messa molto in discussione. E purtroppo, ovviamente adesso sembra che tiri acqua al nostro mulino, ma le responsabilità sono molto istituzionali piuttosto che del singolo. Io conosco molti colleghi, ho conosciuto tantissimi colleghi ai vari congressi, non ho mai trovato persone che rispecchinano un po' quella visione negativa che ha la popolazione del medico, come una persona semplicemente intenzionata a fare soldi, come se le multinazionali farmaceutiche ci coprissero di soldi. Io non conosco, anzi siamo una categoria adesso che alla fine dei conti ci deve anche un po' pensare a quel lato lì. Quindi non siamo sicuramente sotto il gioco di un diktat superiore, senza scomodare complotti, teorie vaccinali e quant'altro. Ma proprio per questo bisogna esporsi, perché sennò l'antimedicina, un termine che traspondo un po', che nasce dall'antipsichiatria generalmente, è sempre più forte. Perché basta una singola persona che per motivi personali abbia avuto un problema, anche soggettivo, con la sanità, che si apre un canale YouTube, fa proseliti e convince centinaia, migliaia di persone a fondamentalmente avere diffidenza nei confronti della classe medica. E ovviamente la base del rapporto, anche dal giuramento di Ipocrate, è che ci deve essere reciproca fiducia tra la persona assistita e il curante. Se questo rapporto si rompe, anche l'outcome, il risultato finale, la guarigione è compromessa. E quello che dobbiamo fare in questo momento è esporci maggiormente, misurando i termini, avendo ovviamente dei scorsi scientifici che vadano un po' al di là della mera opinione personale, ma facciano comprendere quanto in realtà ci sia di buono e quanto ci si spenda e quanto sia diventato un lavoro difficile. E togliendo un po' questo clima persecutorio, le cose sicuramente già inizieranno a migliorare. Si inizierà un po' a comprendersi di più e passare l'annoso problema adesso delle denunce. Basta un capello girato nel lato sbagliato e si minacciano le denunce. Ormai è un light motive. Se uno gli viene, non lo so, un episodio di mal di pancia, va in pronto soccorso e passa in pronto soccorso qualche ora, sentirà sicuramente qualche paziente gridare allora io vi denuncio. Purtroppo è un argomento abbastanza, non da oggi, molto attuale. Non abbastanza molto attuale. Però diciamo che creare un po' il tuo ecosistema, creare un po' un tuo brand, come noi tendiamo sempre a specificare, cerchiamo anche di trovare un po' le strategie. Creare un tuo brand serve anche un po' per aumentare quella che tu dicevi giustamente sta avvenendo un po' meno, cioè l'autorevolezza, cioè la fiducia nella figura della nostra professionalità. Purtroppo abbiamo avuto diversi attacchi e non certo solo negli ultimi due o tre anni, ma l'antiscienza, un po' la diffidenza in generale purtroppo ha generato tanti sentimenti negativi nei nostri confronti. Avere invece un progetto in cui ci esponiamo, ci mettiamo la faccia, come si dice, non può che aiutare a portarci un po' più di fiducia, a far capire chi siamo, come facciamo il nostro lavoro, perché alla fine effettivamente quando una persona si rivolge a un medico è facile che ormai prima di fare la visita ci cerchi su internet, cerchi di vedere un po' se c'è qualcosa. E se c'è una persona che è un medico che non è presente, che non si sa niente, che non si trova, a volte per le abitudini che abbiamo oggi quasi ci insospettiamo, è vero? Sicuramente sì, perché ormai il biglietto da visita a Cartaceo è una cosa che si vede nei film come in American Psycho, nella famosa... Pensavo proprio a quello, sì, 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 quei bellissimi biglietti, carta d'avorio, bellissimi. Esatto. Io ai primi tempi, ormai 12 anni fa, mi sono laureato, subito sono corso a farmi i biglietti, ma proprio pensando al American Psycho, anche per la soddisfazione di averli naturalmente, però è un bellissimo esempio. Oggi effettivamente, ti ho interrotto, scusa, è un po' diverso. Sì, è un po' diverso in quanto il passaparola diretto è stato bypassato, i mezzi di comunicazione hanno una crescita esponenziale, il biglietto da visita in bianco d'osso non è più quello che la gente vuole e non avrebbe più quella diffusione, però abbiamo dei mezzi molto più potenti che non stiamo sfruttando. Ora, il sito internet, banalmente, è un biglietto da visita. Un professionista, immaginiamo un chirurgo, se una persona deve subire un'operazione, non va da quello che gli ha consigliato l'amico, cerca su internet a vedere chi è, che sito ha, com'è, fa. E le recensioni poi, tanti siti, tanti portali di medici offrono la possibilità di fare delle recensioni. Quello secondo me può essere davvero però fuorviante, perché lo vediamo anche banalmente nei ristoranti. È diventato un market quello delle recensioni che sarà affidabile, ma fino a un certo punto. Però, vabbè, è un altro discorso. E a proposito di tutto questo che ci dici, raccontaci un po' anche il tuo esperimento che è iniziato, perché io, devo dire, non lo conosco poco. Quindi spiegami un po' come si chiama innanzitutto. Ma allora, l'esperimento si chiama Psychiatric Club, ma ha un prequel. Diciamo che dall'incontro di un noto psichiatra italiano molto presente, per fortuna, sui social network, a fare divulgazione scientifica, che è Valerio Rosso, da questo connubio mi ha dato la scintilla per aprire il mio primo sito internet professionale, diciamo. E non è stata impresa facile, perché essendo il mio nome Davide Bianchi, ce ne siamo una squadra e mezzo, indicizzarlo su Google è stato molto difficile. Quindi ottenere la prima pagina non è stato affatto facile. Adesso cercando Davide Bianchi, psichiatra, esce. Com'è il tuo sito? Dicelo un po'. Ma il sito è nato come... Proprio il link. Il link è davide-bianchi.com Ok, poi lo scriveremo magari in sovraimpressione, come si diceva un tempo. Ed è nato come un blog, uno spazio digitale, in cui parlare principalmente della mia passione, che è un po' il connubio tra la psichiatria e la tecnologia, le neuroscienze, diciamo. Non avendo l'ambizione di definirmi assolutamente un neuroscienziato, però curiosando qua e là in quel campo. E stranamente, pur essendo un argomento abbastanza di nicchia, qualche risultato inizia ad esserci nelle visualizzazioni degli articoli. La gente è incuriosita, altre volte un po' intimorita, anche perché non sono uno che va troppo di mezze misure. Quando c'è da parlare dell'impatto delle nuove tecnologie, nella realtà ci vado giù abbastanza pesante. Anche perché lì non esistono mezze misure. Tanta gente non vuole accettare questi cambiamenti, lo dicevamo anche prima, ma sono inevitabili. E dobbiamo solo che cavalcarli fondamentalmente. Un po' il nostro scopo deve essere questo, secondo me. Esatto, possiamo fargli giocare a nostro favore. Sicuramente, perché se non prendiamo quell'onda ne verremo travolti. E ormai non so chi ha avuto la possibilità di testare software di AI come Midjourney. Io lo uso, sì. Midjourney... Un quetante è fighissimo allo stesso tempo. Esatto, ho usato due parole molto appropriate. Per chi non l'avesse ancora provato, è un software indipendente, parzialmente anche gratuito, con il quale mettendo un prompt di comandi all'interno di una chat che viaggia su Discord, che è una sorta di WhatsApp per intenderci, lui riesce a comprendere la richiesta, delle parole chiave che gli diciamo, ma può essere anche una frase libera, e lui genera un'immagine. Immagine che non è copiata da internet, da altre immagini, ma deriva proprio dall'intellezione del significato della frase che noi abbiamo messo. E il risultato è veramente incredibile. Basti pensare a un libro che conoscete, descrivere un'immagine di quel libro lì, o una scena di un film, e l'immagine che restituisce l'intellezza artificiale è sbalorditiva. Molto meglio di quanto un artista medio riesca a fare, nel bene o nel male. Eh sì, questo sta generando tra l'altro tantissime proteste, perché tantissimi artisti naturalmente sentono compromesso il loro lavoro, però effettivamente è un'applicazione, è un bot per l'esattezza, è un bot che ci crea delle immagini straordinarie. Io infatti negli ultimi mesi mi ci sono messo, è un discorso adesso sicuramente un po' alatere, ma è molto affascinante a proposito di tecnologie e di evoluzione, anche perché il discorso di intelligenza artificiale si sta applicando anche, oltre che all'arte, anche alla musica. C'è un famoso video su YouTube in cui si può ascoltare un brano, un bel pezzo musicale fatto da un'intelligenza artificiale. Anche questo è abbastanza inquietante. Per non parlare poi anche delle... ci sono ormai anche di chatbot, ci sono tantissime ormai applicazioni di questa intelligenza artificiale che sono, è vero, affascinanti, però un po' inquietanti, però anche questo potrebbe essere un bel argomento per noi, nel senso che dubito, ma non si sa mai, che un'intelligenza artificiale possa prendere il posto di un diagnosta, di uno che deve fare una diagnosi, però è una cosa che potrà aiutarci. Adesso forse stiamo un po' sforando, diciamo, rispetto all'argomento iniziale, però è affascinante come discorso. Sì, è affascinante perché, ad esempio, sicuramente nell'ambito psichiatrico, il mio, la relazione è quella che porta poi i benefici migliori, su una base ovviamente di disfunzioni che in parte sono biologiche, relazionali, traumatiche e quant'altro. Però l'intelligenza artificiale ci dà anche dei riscontri teorici o in futuro anche diagnostici molto importanti, in quanto interpolando dati, big data, così ampi, secondo me si arriverà a trovare la noxa delle psicosi, del disturbo bipolare attraverso l'analisi proprio dei dati. Giungendo a conclusioni che magari logicamente non sarebbero state ideate da una mente umana, ma è un percorso che è nato dall'intelligenza umana e che è stato trasposto in digitale. E mid journey, come dicevamo prima, ad esempio parlando di un utilizzo pratico, perché sennò sembra solo, oh mio Dio, gli artisti hanno finito di lavorare, perché c'è mid journey. Tutte le immagini dei miei articoletti sono state fatte con mid journey o le immagini della mia tesi. Ah, bello, interessante. Vi descrivo solo, la mia tesi è stata fatta sul disturbo borderline, di personalità, che tra le varie caratteristiche che riguarda principalmente donne e ragazze che hanno la tendenza a tagliarsi, ad avere un'emotività impulsiva, cangiante, passare da ipervalutazione a ipervalutazione, un senso di vuoto interiore molto forte che cercano di riempire con sostanze, eccessi, promiscuità sessuale e che crea molto disagio alla persona con un'emotività molto esplosiva. Io ho descritto queste caratteristiche a mid journey e il bot mi ha restituito l'immagine di una ragazza giovane, piangente, con dei graffi sul viso. E ho detto, vabbè, ha capito l'argomento e l'ha fatto. In un altro tentativo gli ho detto solo disegnami una ragazza affetta dal disturbo borderline di personalità e ha ricreato tutte queste caratteristiche in un'immagine che è verosimilmente quello che ci troviamo di fronte, più o meno quando si parla di disturbo borderline. Stesso discorso, e da qui mi è nata l'idea di aprire questo progetto chiamato Psychiatric Club. Poi ritorniamo effettivamente alla domanda iniziale. Alla domanda iniziale. perché, dato che io non so disegnare, il software mi ha permesso di creare delle immagini che hanno lo scopo di diventare delle sorte di figurine delle malattie mentali, in quanto ora della salute mentale se ne ha molta paura. Diciamo che se l'approccio dallo psicologo è accettato, anzi molto promosso anche a livello dei media, la necessità di essere visitati da uno psichiatra viene ancora vista male. Lo psichiatra è ancora lo strizzacervelli. Sì, c'è ancora molto stigma adesso, sicuramente. C'è ancora molto stigma. Nonostante tanto si stia facendo, basti pensare all'associazione con Oprah Winfrey in cui Lady Gaga, nota bipolare, o il principe William, o Cara delle Vigne, tutti questi personaggi famosi, Britney Spears, ricorderete quando si è rasata a zero, era in una fase maniacale. E loro stanno cercando di portare alla ribalta la necessità di far vedere queste malattie. Malattie che sono prettamente a base biologica, quindi sono malattie del corpo, non sono conseguenti a traumi, ed essendo tali necessitano in prima battuta di una terapia farmacologica. Il fatto solo di poter divulgare delle immagini che raffigurino queste patologie, anche in modo un po' scherzoso, avvicina le persone a umanizzare queste patologie, non esserne spaventate, e portare magari il parente, il proprio figlio, il proprio caro, in cui riconosciamo alcuni aspetti di queste patologie, da un professionista. Senza rallentare troppo poi l'iter diagnostico e conseguentemente terapeutico. Quindi Psychiatric Club sono delle serie di immagini in cui inizialmente venivano raffigurati animali, cani, gatti, orsi, pinguini, che raffiguravano un po' le varie patologie. Quindi c'era il cane schizofrenico, e il bot mi ha restituito un cane visto quasi in terza persona, con delle sorte di nuvole che si allontanano dalle sue orecchie, come a simboleggiare un po' le dispercezioni uditive che queste persone spesso hanno, terzi occhi, depersonalizzazioni, e cose di questo ambito. E la cosa curiosa è che unendo un'altra tecnologia, che sono gli NFT, questo mi ha permesso di creare delle immagini uniche che non possono essere riprodotte, che quindi di per sé hanno un valore anche interscambiabile. E questo si collega anche un po' al nome Psychiatric Club, perché sembra un termine ironico, ma in realtà quando si parla di club si parla di un circolo nella quale qualcuno vuole essere. e vuole essere ovviamente non come ricerca della patologia, ma come modo di inglobare la patologia, di portarla alla luce, perché tutto quello che rimane nascosto poi diventa stagnante e si ritorce su se stesso. Vero, molto interessante. Raccontaci un po' come troviamo online questo tuo progetto. Allora, il progetto si trova a partire dal mio sito, quindi davidetratinobianchi.com, c'è la pagina Psychiatric Club, oppure su Instagram c'è la pagina dedicata. Oppure se qualche avventuroso naviga già su OpenSea, che è il principale portale di scambio di NFT, lo trova anche lì sopra con il nome Psychiatric Club. Affascinante. Com'è andata su OpenSea? Ma, allora, è inutile che faccio lo splendido. È andata male, nel senso che giustamente nessuno ha ancora comprato gli NFT. Il mercato, adesso, non stiamo a parlare pure di NFT, se noi siamo qua fino a stasera, ma è un mercato estremamente saturo in questo momento, che ha vissuto una bolla enorme, ma adesso... Esatto, è un mercato che... Quando sono usciti, che non lo so? Sono usciti principalmente un annetto e mezzo fa, con le... Ah, quindi è già un po' di tempo. È già un pochino di tempo, con le prime collezioni note, magari avrete visto immagini di scimmietristi e il progetto era Bored Apes Club. E le singole immagini sono diventate talmente virali che sono state vendute a cifre, anche come 500 milioni di dollari. Delle cifre assolutamente folli, gonfiatissime, ma che in quel momento, come ogni oggetto collezionabile, ha avuto un hype pazzesco. Ora, diciamo che quella scrematura a grandi linee è stata fatta e rimane un po' la base che dovrebbe diventare un po' più solida. Psychiatric Club ovviamente non aveva nessuna di queste ambizioni, ma è stato il... Ho fatto una ricerca antecedente ed è il primo progetto che porta una tematica psichiatrica e che non parte da un solo vezzo artistico. non era l'immagine di per sé che può essere bella brutta, ma portava un concetto dietro. Cioè io compro l'immagine del paziente affetto da disturbo bipolare. Perché? Sì, può essere in parte collezionabile, ma il fatto che se ne parli già porta alla luce un disagio che sta crescendo sempre più. Certo, può diventare anche un simbolo tutto ciò, devo dire effettivamente che dare questo tipo di significato tramite questo tipo di tecnologie effettivamente non l'avevo mai sentito e trovo anche interessante sicuramente. Direi che non ci resta... Adesso me li vado un po' a vedere perché mi hai molto incuriosito non li avevo ancora visti. Direi che abbiamo trattato già abbastanza argomenti per oggi. Adesso non ho neanche tenuto conto del tempo, ma direi che abbiamo fatto una bella carrellata di argomenti, abbiamo parlato un po' dell'importanza comunque di cercare di trovare innanzitutto tra di noi medici una sinergia, ma anche creare una nostra immagine, un qualcosa che possa essere spendibile online tramite proprio tutte queste fantastiche tecnologie perché ormai è inutile negare che sta succedendo qualsiasi cosa dal punto di vista tecnologico e non approfittarne sarebbe un peccato. È proprio anche su questo che noi puntiamo nel momento in cui adesso dico cose a caso, ma nel momento in cui abbiamo un'intelligenza artificiale che crea un certo algoritmo e che magari ha bisogno della supervisione di un medico per la terapia, di un qualche cosa, per il trattamento di una patologia, essere posizionati da questo punto di vista può davvero fare la differenza, essere già preparati, conoscere già determinati argomenti e avere anche una tua baseline, una tua community da questo punto di vista non può che essere molto attraente sicuramente, però ci lavoriamo adesso, cerchiamo di creare qualcosa di bello, dai. Sono d'accordo, d'accordo su tutto e già che abbiamo messo poca carne al fuoco aggiungo un termine che mi sono inventato che è meta-psichiatria. Metaverso e psichiatria? Perché non so chi di voi ha avuto la possibilità di provare un Oculus Quest. Io ce l'ho a casa, ovviamente. Io che sono leggermente malato di queste cose ce l'ho. Giustamente. L'impatto è sconvolgente. Sconvolgente, ha delle potenzialità veramente incredibili dal punto di vista generale, dal punto di vista anche clinico. Immagino la possibilità di fare riunioni o di fare una seduta nel metaverso, quindi con la possibilità di vedere dall'altra parte un avatar che stanno diventando sempre più reali, non è più l'immagine da videogioco. Si potrà vedere direttamente chi c'è dall'altra parte con le sue movenze, la sua psicomotricità, quindi una sensazione di esserci molto forte. E tutto il discorso che abbiamo fatto si trasporterà lì. Quindi il discorso del biglietto della visita digitale, del sito internet, delle esporsi sui social network, degli NFT a cui base c'è la blockchain che entrerà o è entrata già di prepotenza in quelli che chiamano metaversi il metaverso. Quindi diciamo che è un'onda esponenziale che va in qualche modo perlomeno contemplata, non dire ne ho paura guarda dall'altra parte. Sì, sì, anche conosciuta proprio effettivamente, anche perché tutto questo come dicevo prima è già qui ed è inevitabile, sconvolgerà inevitabilmente in positivo forse non solo in positivo ma tutto questo viene fatto per sconvolgere in un senso positivo le nostre vite e anche nel nostro piccolo orticello diciamo di medici sicuramente avremo cambiamenti enormi da questo punto di vista però visto che è un argomento estremamente ampio e anche affascinante secondo me sarà bello parlarne proprio fare una chiacchierata una prossima volta proprio su questo argomento vedere un po' le novità le possibilità noi io e Valerio Valerio Rosso abbiamo abbiamo iniziato un po' a metabolizzare a contemplare un po' questo discorso di media influencer proprio partendo anche da un discorso di metaverso perché c'è una prateria sconfinata da questo punto di vista nessuno è pronto preparato a creare un ambulatorio virtuale ci si arriverà a breve perché se non ci sia già arrivati oggi probabilmente però è una prateria che non possiamo farci sfuggire dal punto di vista professionale e anche proprio lavorativo diventa una torta non da poco per creare delle opportunità veramente anche molto affascinanti secondo me cito le parole di un altro blogger italiano molto famoso marco montemagno descrive la fase in cui lui era a sky e aveva deciso di farsi il suo primo sito internet e lo guardavano un po' come un alieno lui racconta a dire ma che cosa fa il sito internet ma chi vuoi che ti vada a cercare su quel pc che ci sta un quarto d'ora ad accendersi lascia perdere fai l'annuncio sulle pagine gialle per dire non erano queste esattamente le parole però comunque l'avevano criticato per essersi esposto su internet e il resto della storia non devo certo raccontarvelo e in questa fase l'ingresso metaverso è già un termine molto inflazionato e altisonante però diciamo nel mondo della realtà virtuale della realtà aumentata è una necessità assolutamente ma faremo una bella chiacchierata apposta perché ripeto è un argomento veramente affascinante mi piacerebbe dedicargli anche il giusto tempo cosa dire Davide ti saluto è stato un piacere credo che abbiamo affrontato tanti argomenti affascinanti un po' magari ci abbiamo sorvolato sopra ma sono tantissime le cose che sarebbero da dire per cui per oggi ci fermiamo qui magari ci riserviamo la possibilità di fare un po' più di approfondimenti credo che comunque il concetto sia chiaro noi abbiamo davanti una prateria e non possiamo non farci trovare pronti d'accordissimo e vi ringrazio per questa chiacchierata